Lecce in queste ore si è trasformato in un set cinematografico, la Fiat ha scelto il capoluogo salentino per registrare lo spot nazionale del lancio della Fiat 600, protagonista e testimonia Leonardo Di Caprio. Ma dov'è Leonardo Di Caprio? Avete incontrato Di Caprio? No. E' in giro? Dicono che si è in giro per girare lo spot? No, arrivo da Bergamo, non ho visto nessuno. Comunque bellissima Lecce. Cosa ha visitato che le è piaciuto? Tutto, tutto. Santo Ronzo, la piazza, poi sono in ottima compagnia. Benissimo, venite a Lecce, che bellissima Lecce. Ha visto per caso Di Caprio in giro? No, 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 assolutamente proprio. Dicono che si è in giro per girare lo spot. Bene, bene, per Lecce è bene. Lecce palcoscenico per la campagna nazionale di pubblicità della 600 elettrica, ci dovrebbe essere Di Caprio. Lei ha visto Di Caprio in giro? Allora, l'ho visto ieri sera mentre preparavano lo stage, sì, sì, ma credo che sia la seconda volta su Lecce per quanto riguarda appunto la promozione della 500. No, no, al momento no. Come va col turismo? C'è movimento? Stiamo iniziando, la stagione sta ingranando. Qual è l'articolo che le chiedono maggiormente? Ma in realtà non c'è un articolo di riferimento, è proprio il negozio che attrae perché è molto colorato. La ceramica piace. Grazie a tutti.